Una multa da 500 euro ogni giorno alla Butol per la chiusura del centro per il deposito degli ingombranti della Santissima Trinità. Pugno duro dell'amministrazione comunale contro la ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Torre del Greco. Una linea d'azione che dovrebbe portare alla riapertura quanto prima del punto mobile, che invece risulta chiuso da circa 15 giorni. Una chiusura che inevitabilmente arrecca disagi e disservizi. Regolarmente aperta invece l'area individuata dall'amministrazione comunale a Viale Sardegna. Non mancano tuttavia i soliti disagi in città, soprattutto in alcune zone dove la raccolta procede a singhiozzo, con cumuli non correttamente differenziati e non mancano gli sversamenti abusivi. Prorogati intanto sino alla giornata di venerdì 22 ottobre, i termini di scadenza per la presentazione agli uffici dell'ente delle richieste di riduzione dell'Atari. Ciò in considerazione del fatto che alla data del 15 ottobre, ultimo termine utile per la presentazione delle stesse, molti cittadini torresi erano ancora in attesa del modello ISEE.